Dopo la boccata d'ossigeno della vittoria ritrovata con Orzi nuovi, l'infrasettimanale di Udine riaffossa il morale della VL che al pala carnera perde 83-72 dopo una partita condotta per tre quarti di match prima di un crollo verticale nell'ultimo parziale. E dire che la Carpegna Prosciutto Basket sembrava avere in pugno la contesa quando nel terzo quarto si era presa pure un vantaggio di 15 punti. Udine però non incassa il colpo del KO e riemerge prepotentemente al cospetto di una VL che negli ultimi dieci minuti si squaglia come neve al sole in un mortificante 27-9 che consegna la settima vittoria stagionale ai frulani condannando Pesaro al sesto KO. Vani i 29 punti di Ahmad e i 20 di King. Male il gruppo degli italiani, malissimo la percentuale a rimbalzi che dicono 53-34 per Udine. Quando dovevamo resistere abbiamo fatto diversi errori e qualche forzatura che dobbiamo analizzare ma portiamo a casa 30 minuti di una squadra vera ancora non abbiamo quei 40 minuti di questa intensità che loro hanno fatto specialmente nell'ultimo quarto dove noi siamo un po' calati per quello che bisogna lavorare ancora. Materiale da analizzare in fretta perché domenica la Vitre Frigo Arena arriva alla capoclassifica Rimini che fin qui ha perso una sola gara in campionato.